Ciao a tutti ragazzi, buon lunedì e benvenuti a Videogame News, la rubrica di EveryEye.it che vi tiene sempre informati con tutte le notizie dal mondo dei videogiochi. Cominciamo l'edizione di oggi parlando di Nintendo e più in particolare del presidente Satoru Iwata, il quale ha dichiarato che l'E3 verrà sfruttata anche come piattaforma di lancio per alcuni nuovi titoli pensati specificamente per il Gamepad di Wii U. Alcuni di questi titoli addirittura pare siano già quasi completi e sono tutti stati studiati proprio per dimostrare all'utenza, finalmente, che il Gamepad può avere delle caratteristiche uniche che possono proporre un modo di giocare completamente diverso da quello di tutte le altre piattaforme. Vista la situazione un po' critica delle vendite della console, noi naturalmente ci speriamo, così come tutti i fan. E passiamo ad una notizia fantastica per tutti i nostalgici, dato che Square Enix ha confermato l'arrivo di un remake di Final Fantasy III su PC. Sappiamo che naturalmente supporterà le risoluzioni in HD, anche gli obiettivi di Steam e le trading cards. Quello che manca è ancora la data d'uscita, purtroppo, ma noi vi terremo informati anche su questo. E dopo le tantissime lamentele ricevute in questi giorni, Sony ha deciso di rivedere le proprie politiche relative a Drive Club, il social racing game in uscita il 4 ottobre esclusivamente su PlayStation 4. Inizialmente i giocatori, secondo i piani originari, avrebbero potuto fare una conversione all'esperienza intera pagando 49,99€, ma sarebbe stato poi comunque necessario continuare a pagare un abbonamento. Sony ha deciso di rimuovere quest'ultima limitazione proprio in seguito alle polemiche che si sono create, peraltro dando dimostrazione di tenere in grande conto il parere della community. Watch Dogs è sicuramente uno dei giochi più attesi dell'anno e moltissimi giocatori in tutto il mondo non vedono l'ora di metterci le mani, noi compresi, a dire il vero. L'uscita del gioco, fissata per il 27 maggio, è sempre più vicina e con essa naturalmente arrivano anche varie notizie. Questa volta arriva da Sony, che sul suo sito ufficiale ha definito True Watch Dogs Experience il gioco giocato su PlayStation 4, parlando di 60 frame per secondo e 1080p. Ancora nessuna risposta da Microsoft, noi però naturalmente preferiamo aspettare la notizia direttamente dagli sviluppatori e da Ubisoft, quindi vi terremo aggiornati relativamente alla solita questione delle risoluzioni. E manca ormai poco meno di un mese all'inizio del E3 2014 ed è tempo di fissare le date sul calendario. È la volta di Sony che arriva con la sua conference. Segnatevi il 10 giugno alle 3 del mattino, ora italiana, perché proprio lì Sony aprirà i battenti alla propria Kermess Los Angelina. Si prevedono tantissimi annunci, ricorderete che era trappellato lo script, naturalmente non ci sono state né conferme né smentite, quindi non sappiamo nulla, però i titoli attesi sono tantissimi e tutti molto importanti, tra God of War 4, Uncharted 4, Gran Turismo 7 Prologue, The Order 1886 e molti altri ancora, non dimentichiamo anche Project Beast di From Software, sempre che venga portato alle 3. Noi saremo sul posto e vi daremo tutte le notizie direttamente da lì. E passiamo a Tripwire che ha annunciato ufficialmente lo sviluppo di Killing Floor 2. Lo ricorderete, è uno sparatutto cooperativo ed è uscito nel 2009. Il budget stanziato per questo seguito tuttavia è molto più alto e questo permetterà agli sviluppatori di fare tutta una serie di cose, tra cui moltissima animazione in motion capture e un nuovo sistema definito il Gore System che prevede 95 zone in cui gli zombie che si affrontano nel gioco possono essere colpiti per una spettacolarità totale, quindi delle sparatorie. Le clip in motion capture che verranno realizzate per la versione finale del gioco saranno oltre 3.000. È stato migliorato anche il sistema di perche che è stato portato a 25 livelli mentre invece nel primo capitolo erano soltanto 6, quindi ci si può aspettare avanzamenti diciamo in tutti i campi per questo sequel. Telltale Games ha finalmente svelato le date di uscita di In Arms Way, ossia il terzo capitolo della seconda stagione di The Walking Dead. Arriverà il 13 maggio su PC e Mac, il 14 maggio su PlayStation 3 ed Xbox 360 ed il 15 invece su piattaforme iOS e noi naturalmente arriveremo con la nostra recensione appena possibile. E passiamo adesso come sempre alle nostre personalissime top e flop news. Il top di questa settimana lo assegniamo a Sunset Overdrive. Infatti gli sviluppatori Insomnia che sono finalmente usciti allo scoperto con questa esclusiva Xbox One. Hanno mostrato un videogameplay e chiaramente si sono viste tutte le influenze molto particolari di questo gioco che parte da Jet Set Radio per passare a Prince of Persia senza dimenticare neanche Mirror's Edge e addirittura Dead Rising per le folli armi come lo spara vinili che abbiamo visto in azione proprio nel gameplay. Si tratta naturalmente di un gioco competitivo caratterizzato da una grafica coloratissima e dalla grandissima mobilità di cui dispongono i personaggi che possono saltare, appendersi, correre sui muri. Il gameplay in generale ci ha incuriosito davvero tanto e lo stile di design molto fumettoso, molto cartunesco anche. Quindi siamo molto curiosi di metterci le mani in prima persona. E il flop di questa settimana va invece a Bound by Flame. Il gioco sviluppato dagli Spiders era partito da premesse interessanti ma purtroppo è stato portato avanti in maniera sicuramente frettolosa. Non riesce ad offrire nulla di nuovo per gli amanti del genere ma soprattutto la cosa peggiore sono i problemi grossi di bilanciamento a livello di gameplay. Se a questo si aggiunge un comparto tecnico certo non esaltante, quella che si ha è una produzione che davvero non si può consigliare neanche ai più irriducibili amanti del GDR. Per l'edizione di oggi era tutto. Noi come sempre vi diamo appuntamento a giovedì prossimo con Videogame News. Ciao!